Allora ragazzi, basta chiedermi su Instagram CadizioMar023 gioca su Fortnite Io non posso giocare perchè ho vendito l'account Se volete un video, arriviamo almeno a 7 like 7 like, ci siamo arrivati una volta E farò un video, lo scaricherò Si funzionerà perchè sulla PS ce l'ho ma in un altro account Per quello l'ho venduto Vabbè, l'ho venduto C'ho quest'altro su PC che non mi si scarica perchè ho la parte Non mi si scarica perchè ho poca memoria Ora avrò tanta memoria Così me la potrò scaricare Così quando me la sono scaricato ci giocheremo Ragazzi scusate, non me lo chiedete più perchè sul PC non ce la faccio Ora ci provo, se funziona faccio i video Se non funziona non ce la faccio Ragazzi, voglio dirvi che E se faccio i video sul PC Faccio schifo a giocare su Fortnite col PC Soltanto con la PS che ci sto giocando Ma sul PC sono un cazzo di nabbo Grazie niente Il link è in descrizione Giuseppe Riccola, grazie per i 14 iscritti Noi ci vediamo in prossima video, ciao!